L'incontro di calcio valevole per il campionato di Serie D tra le squadre del Ragusa e quella del Licata si è svolto lo scorso 3 dicembre presso lo stadio comunale Aldocampo di Ragusa durante lo svolgimento della partita nella tribuna occupata dai tifosi del Licata. Alcuni di loro avevano fatto esplodere petardi. Al termine dell'incontro un consistente gruppo facendo pressione sui cancelli posti, sulle doppie recinzioni che delimitano e separano quel settore da quello occupato dalla tifoseria avversaria provocava la rottura dei lucchetti e l'apertura degli stessi e si dirrompeva nella tribuna ancora occupata dai tifosi della squadra del Ragusa. Il rapido intervento delle forze di polizia impiegate dal questore nel servizio di ordine e sicurezza pubblica evitava il contatto fisico tra i supporters delle due squadre evitando il degenerare della situazione e il grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'attività investigativa è stata immediatamente avviata dalla DIGOS che con il supporto delle immagini video registrate dalla polizia scientifica è riuscita ad individuare le persone responsabili di diverse condotte illecite quali il lancio di artifici pirotecnici e l'indebito superamento di recinzioni dell'impianto. Complessivamente sono state identificate e denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa 22 supporters della squadra di calcio del Ligata di età compresa tra 56 e 16 anni. In tutto sono 4 le persone minorenni. Successivamente all'attività di polizia giudiziaria le condotte dei tifosi sono state vagliate dalla divisione polizia anticrimine ai fini dell'adozione di amisure di prevenzione personale da parte del questore autorità provinciale di pubblica sicurezza. Applicando al caso concreto le norme previste dal diritto prevenzionale il questore dottor Vincenzo Trombatore ha adottato 22 provvedimenti di Daspo nei confronti dei medesimi tifosi della squadra del Ligata Calcio già denunciato. Il provvedimento inibitorio che fa di vieto ai 22 tifosi licatesi di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per il periodo di un anno è stato notificato nei giorni scorsi.